mamma mia troppo è più che sta cosa io non pensavo che fosse così complicata questa mappa pensavo che fosse semplicemente un'isola con dentro di dungeon e invece no ma ci sei ci sono ok no adesso cioè si l'ha finita e adesso l'ho ricominciata una caverna mega galattica piena di torce quindi non ci sono mostri qui ok un labirinto c'è una nave gigante a mai dato via e continua a parlare da solo sono entrato in quel posto di prima guarda che cavolo di posto la parete è completamente scoppiata e detto c'è sta nave qua perché siamo sulla vela scendiamo mi sembra che c'era un archiviment che diceva di trovarla o di costruirla non lo so appunto fornate che cuociono ma non è vero che sento quattro e si dico un villico è una cesta il mistico oh ma io quante robe c'è tutto qui dentro c'erano 16 diamanti questo qui è utilissimo per di più questo vi dico è utilissimo guarda che cosa da commercio 16 diamanti c'erano e siamo liberi dobbiamo usare per fare il set d'armatura completa come dicono i vecchi facciamoci l'armatura è inutile si ma dice di farlo ah si allora allora uno lo fa e si poi se ne avanza lo fa anche l'altro cos'è sta cosa io vado a casa io vado a sistemare un po' io anche io ci vado a fare un attimo arrivo anch'io ok mettiamo tutto qui dentro oh caspita quante cose oh comunque ti stavo dicendo sono finito in una camera che diceva che ci servono 16 portali per attivare una specie di potere oh si stava crescendo su specchio non so cosa sta succedendo qualcosa dicevo che ho trovato una camera segreta dove diceva che servono 16 portali per attivare un potere mistico tipo noi ne avremmo 8 tecnicamente perché gli altri li abbiamo persi ah ma non possiamo gli farceli perchè e ma tu non esiste si che esiste e si scrive il numero si ah si 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 mi serve una delle cose ma non so come si chiama e come si fanno cosa quelli della redstone i blocchi le torce tecnicamente uno di due si potrebbe già fare l'altra parte dell'isola per andarci più rapidamente mi servono i ripetitori che si chiama e non so come si craftano dove hai messo tutte le le rotaie eccole soltanto 10 ne hai ah no oh caspita quante ne hai di rotaie e se mi scarico l'app sul telefono e le craft c'è l'app per vedere i crafting di minecraft sul telefono e c'è la craft epico io non sapevo epico io non sapevo mi sapevo mi sapevo mi sapevo che non bastano le rotaie però per un bel pezzo ci possono portare da qui a là i 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 piacere ok la pistola io so come si fa ok e sono un po' lontano da casa se non pensi di ferro ah ho finito le rotaie io io ce l'ho in casa in casa le prete tutte vabbè fino a bel pezzo si portano le prete tutte quelle che siano là no vabbè poi devo ripetere altre edugano cino in in sono ando ok ecco ecco ma magari questo è il petto qui mi fa un pistone ci serve del ferro della redstone della pietra mi sembra la pietra c'è tutto la pietra c'è tutto i cubi li distruggo perché mi servono ci mettevano la pietra ah si ora ci mettiamo ok poi ci mettiamo i cubi di amante mi serve quindi la pietra la redstone e un pezzo di ferro mi sembrava che si facesse così ah però il legno non ce l'ho così così ma che ci vuoi fare con queste robe devo fare quella cosa che si moltiplica il diamante ah non so come farlo il pistone ah il gatto mi avevo sentito però io non so come farlo il legno è tutto e non so come farlo ma non so come ma 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 il il Grazie a tutti